Benvenuti al MADE, è così in un tono un po' elegante che voglio dare il benvenuto a tutti quelli che stanno guardando questa prima puntata oserei dire di MADE TV direttamente dalla cena del venerdì sera, sì perché al MADE Club di Como si può anche cenare e devo dire in dei toni davvero molto eleganti tutto questo grazie anche al ristorante Silvio, uno dei più famosi della città di Como che fornisce la sua cucina proprio per tutte le cene del MADE Club noi cosa faremo? Andremo a riprendere tutta la bella gente che il venerdì decide di venire qui a cenare e chiaramente anche il buffet e tutto quello che è l'ambiente spettacolare ed elegante del MADE Club rimanete con noi Tra i grandi partner di questa sera ne spiccano due, i Spirit Vodka pendono anche dei palloncini con tanto di logo la vodka conosciuta dalla fusione di Lapo Il Can e i Cipreni Restaurant altro partner di questa cena invece del MADE Club è questo, Sublim Caviar Experience ma succede anche questo crema caviale è una crema anti-age, 2-age, fantastica per le signore, da usare la notte e per gli uomini alla mattina come dopo barba anche per gli uomini, da mettere sul viso, la porto a casa, grazie l'emozione del cenando ballando bisogna, sembra uno spot ma non lo è, bisogna provare per credere è veramente una cosa unica, non è un bar, non è un ristorante, non è una discoteca ma è il cenando ballando la musica del DJ Cookie non solo qua per il cenando ballando ma anche per la serata è la voce di It's Your Voice fai un augurio alla tua amica Chiara non si sposare ma scusa, perché no? non volevo fare una roba seria, niente Siamo riusciti a far passare il messaggio di due prodotti speciali uno è chiaramente la vodka Icefield abbinata a un caviale eccezionale come il CR Caviar e due prodotti veramente pazzisti questo è un posto da tornare a frequentare sempre perché c'è il divertimento puro e sano Qui è il tuo raguento E nei miei panorani passano a testa e facce una profetica c'è la ti voglio bene non devi giocare ti voglio bene un certo punto di merita Perché su questi palloncini esattamente sui bigliettini della Spirit Vodka tutti stanno scrivendo un desiderio Bene, questa sera mi farò... forse questo è meglio non leggerlo. Andiamo a Cesare, ciò che è di Cesare, siamo felicissimi di avere gli amici di Mini Clubbing questa sera qui con noi. Quindi il MED una volta al mese è presente al Cenando e Ballando e siamo lieti che in questa occasione qua per la prima volta le vostre telecamere siano qui con noi. Per fare un po' loro saranno tutti sul tavolo con la carvatta in testa, attenzione. Noi con le nostre telecamere ci siamo assolutamente divertiti, MED Club Como. Noi mi invitiamo qui ogni venerdì e ogni sabato ma anche ogni per festivo perché il MED Club Como stupisce. Stupisce. Are you ready? Questo posto... SPACCA! 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 SPACCA!